Le Olimpiadi tornano a Parigi per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1900-1924, quindi un secolo esatto dopo gli ultimi giochi ospitati dalla capitale francese. Tutto è pronto in vista della spettacolare cerimonia sulla Senna che il 26 luglio inaugurerà la 33esima Olimpiade dell'età contemporanea. Grande entusiasmo per la torcia olimpica già arrivata nella capitale transampina e che in questi giorni sta passando attraverso la vasta cerchia urbana parigina tra alifestanti di folla. Misure di sicurezza già al massimo livello con più di 30.000 tra poliziotti e soldati mobilitati. Nelle 35 sedi che in Francia ospiteranno per 17 giorni le diverse discipline olimpiche si esibiranno in totale oltre 10.500 atleti in rappresentanza di 206 comitati olimpici nazionali, mentre il CIO sostiene e patrocina direttamente la squadra dei rifugiati. La rappresentanza azzurra è la più nutrita di sempre ai giochi dei cinque cerchi, è infatti composta da un totale di 403 atleti. Oggi sono partiti alla volta di Parigi numerosi atleti azzurri di varie discipline. Tra loro avrebbe dovuto esserci anche il numero uno al mondo del tennis, Yannick Sinner, ma un attacco febbrile lo ha costretto a rimandare di qualche giorno la partenza che probabilmente avverrà giovedì. Dal campione alto tesino della racchetta, come dai tanti nostri atleti che scenderanno in campo a Parigi, i tifosi italiani si aspettano il massimo impegno sportivo e, speriamo, tante medaglie.